ho un po' di tosse al covid ti interessa? no no va bene spacca sta roba guarda sai chi è? sei tu cazzo c'è pure pensato? sai che si? e va per i capelli all'indietro e invece con la dietro guarda ragazzi ciao valentina e me mora per quello cioè tu non hai mai picchiato tipo fedez? no mai ma si perchè puoi non hai picchiato mai fedez ragazzi lui si no Alexi davvero si Alexi disse è vero? si si è vero l'ho visto è lì è lì è lì della scena li spacca stavo dicendo tu non fai partino gang? ragazzi c'è il trenino livello 6 no cioè tu non fai botte? no qui non sei un rapper no e tu? no eh fate io faccio pezzi io faccio il tratto vai sai che non pensavo spaccano però pensavo pensai peggio pensai peggio no ma lo so eh non lo so tu da quanto lo conosci da anni? eh ormai si adesso non si sa dire gli anni esatti e adesso non schifavi i pezzi con te perchè lui ha spaccato e c'è schifo però mi spiace eh mi spiace è la vita ognuno la sfiga no no è la vita cioè tu vieni con questo per fortuna adesso che qua deve mantenermi cioè sono in quella cioè quindi ricevare a 1000 euro al mese un applauso ragazzi 1200 un applauso 1200 euro al mese per danni file e te più o meno quanto vuoi guadagnare qua? no c'è la sinza spammata adesso dai dai raga spammate quanto guadagni al rosso più o meno voglio sapere che puttana albera eh vai eh ah ah si 9k 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 10 7k 7k 9k 10 tra i 10k o la tu non cinto sesso orale eh però vabbè non è così importante ma perché tutti i 9? eh 100k eh sì ma che cazzo dite? grande oh Dani digli al rosso ma quanto è figa Camilla Masanto porca cazzo non so se l'hai mai vista non è mai vista Camilla Masanto? no ciao Camilla ciao ciao lei Camilla ma ti ha scritto Sandro Tonali dopo il pezzo? si abbiamo fatto non ho visto ciugno ma vabbiamo avuto di assieme? no praticamente è successo lo faccio in breve non ti asciugo che mi ha scritto la tipa di Tonali eh eeeh 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 mi ha chiesto no eeeh no mi ha detto di di andare al compleanno di Tonali a cantare Sandro Tonali dopo la canzone ah è vero tu sei entrato? si ok c'è un video dove cantiamo insieme Sandro Tonali ok ma tu non ci hai parlato? si ci hai parlato? si prima ci siamo visti in Australia quando è uscita la canzone ok e Milano mi ha invitato lì con Henry che è il produttore si 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 e Milano è Messi quando raga cioè mi ha dato il mio stedetto che sembro più che è ormai io ma tu se mi dico a suor Cristina che è Milano Messi vero però vabbè ci sta non è altro suor Cristina comunque è spacca anche cantare comunque stavo dicendo come è nato il fit con Young Snack no con Disgaccio perché mi interessa per me è lui fu fortissimo lui è veramente forte eeeh ci siamo visti già tipo un anno e mezzo fa cioè c'eravamo beccati un anno e mezzo fa eeeh io avevo scritto quello Sparty così mi riusciva siamo beccati gli avevo fatto sentire il mio disco vecchio abbiamo già anche un'altra roba insieme l'hanno fatto poi a me non mi facevamo impazzire non si può sentire? no perché no cazzo ero curioso e poi la tavoce cioè qual è il pezzo più forte che secondo te è? quello che ti ha piaciuto sempre di più del tuo percorso come vuoi dire? del disco e del tutto il tuo percorso ma in generale che ha fatto più stream o che mi è piaciuto più? no no mi è piaciuto di più minchia che casia vabbè dell'ultimo piccolo fight il mio figlio come si ha lui? Nicolò Nicolò sei bello mi sta mettendo giù l'hai capita eh Alexi? bello vieni qua a Sparty eh? ok eeeh no invece del mio percorso ho super ti direi super? cazzo perché ho più giusti bassi che non conosco eh quanto? potete chiedere no però non sono pressioni sto facendo pressioni non sono pressioni cosa vuol dire potete chiedere gameboy color cosa vuol dire potete chiedere gameboy color cosa vuol dire potete chiedere gameboy color vado? con le pressioni? vai sono pronto vai uno dano cos'è ma non vale 3 e raga oh frate a me la tome e me la sfondo a mattiava nettiere frate ma che davvero frate ma che davvero ma che sta a dio ma vuoi fai del merda frate ma frate vuoi fai del merda ma dove fai di io frate vuoi fai del merda a frate io vengo dall'euro frate tu lo giuro dieci anni di romano ho fatto ho mangiato carbonara da quando sono nato a senti a dio frate ma che mi stai a dio ma che mi stai a dio frate sono valerio ma sei lo conosci ho una puttata a zanterra tu lo giuro mi sta facendo sfragicare tipo il rosso qua facciamo un napoletano che parla con milanese sei napoletano? guardate va ma non fa tutto cosa non è che c'è un problema nel senso io provo a fare solamente i dialetti che riesco a fare solamente la cadenza che riesco a prendere però non è che posso fare le cose dai canta, dai canta figa dai che ti prendi e ti... adesso non si sa mai eh se volete il fit tra di lui guarda che io sono... senza non la conoscenza no si la conoscenza ah un giorno... lo vanno qui con me? no non con te proprio ti lascio la partita di ritornello io faccio tutto il pezzo e lascio il ritornello e tu ne... oh taglia? Alexi? Alexi taglia? ma come tagli? vabbè tagliato ragazzi si ma oh se dobbiamo fa... aspetta facciamo però una roba aspetta se mai la facciamo si dovete cioè deve andare in top 50 su certi quali io so che devo fare il mato vai cammera tu non l'hai visto ma non l'ho visto mai che ho fatto la cammi diventata nera adesso? sei andata in... ok è tutto normale tu sei detto in macete quindi conosci la cifra di gente no ero ero in macete sei uscito? ma schi che lo sai dai hai detto apposta l'hai detto apposta frate stai citando il rosso si vede no io però mi dicevo di gang per quello no voi non lo vedete perchè ah ma tu intendi quello ma non è vero mai ma va si non sei boomer tu frate sei giovane ma ragazzi scusa ma si la gente lo sa sentite che sei rimasto indietro frate stai facendo il boomer nel tuo canale qui c'è raga diamogli del boomer per favore male anche ma ma c'è te non sei uscito un macete mixtape due anni fa ma però mi è uscito quattro anni fa ma come cazzo pensi che passa il tempo non sei uscito nel senso dove sei un aggettivo si ma non di tu due scegliene uno in un'altra voce simpatico ma quali altri due? devi dirlo i gemi tides ok simpatico è un king ed io cazzo questo è un porno eh 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 mi sono passato la pilota ma cos'è? mi sono passato la pilota ma cos'è? mi sono passato la pilota ma non mi vuole vedere un zanzuore? posso aver paura no? occhio ti mi rendi adesso ti guardi Illustrati non è un po' ma cos'è? ci dico mi sono passato ma non è un po' tutta l'azienda ma non è un po' ma che di nuovo ma non è un po' se non o' posso dire hai un movimento di bacino è fantastico 10 secondi con bit di sala tra l'altro ti vedo sala tu conosci sala questo pezzo devo uscire del sicuro ma vero non lo farai uscire dov'è uscire quando però anche vero che se guadagni bene nel momento di app si può sapere se ti fai le tue mosse giuste io per dire ho investito tutti questi anni bene e quindi diciamo che ho più soldi di quelli che mi possono servire cioè che non me ne faccio mai perché poi io fra te c'è alla fine sono molto filosofico e penso ho tutto quello che sogno che ho sempre sognato faccio la musica che amore ho un bambino bellissimo una donna c'ho una casa bomba c'ho il cagnolino c'ho in salute vado in vacanza giro il mondo faccio i palchi cazzo se aspiro a troppo poi divento ossessivo e non trago di più ma poi in generale in qualsiasi tipo di lavoro sai qual è il cantante che puzza di più francesco reggio questa è la mia inserata mio padre sai cosa dice una scarpa nike o una scarpa adidas non tornare nike guarda che c'è un'altra sai quella più felice del mt donald vai il cheeseburger savoletti mille cazzo è più bella dico una io vai sono due pere c'è anzi un albero di pere un pero una pera cade dall'albero tutte le altre ridono la spottano la pera si gira e le guarda immature ma dicevo Vegas è un amico e ci siamo beccati i tempi da subito non mi ricordo esattamente come però eravate piccoli? si cioè comunque si parla di sei in casa King Vegas è un king bella brother ciao Veggie voglio bene Veggie ciao bro ciao bro intonizzati ci vediamo in giro che dati? più o meno non ci sei l'estivo cazzo come cazzo? cazzo dalla chat come cazzo? ma l'estivo fa caldo cosa vuol dire vieni uguale? dimmi la data più vicina no appena faccio uscire tu mi dici guarda la più vicina vieni sei su allora non sai già le dati grazie eh fit dei sogni italiano da dove è americano italiano fit dei sogni forse di andre americano cioè americano internazionale ti direi vabbè Michael Jackson però non vale eh no è morto diciamo un rapper Offset ciao Offset Vittorio quando prossimo pezzo con Vegas? in realtà breve in una maniera anche particolare ha forse capito? posso dirlo? vai no posso dirlo? ok no eh? no 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 no